parliamo di speranza dunque come abbiamo detto in apertura di puntata oggi proviamo a gettare le prime basi anche relativamente all'appuntamento giubilare che ci vedrà concentrati proprio sul tema della speranza a partire dal prossimo mese di dicembre e allora vorrei partire con il salutare il professor francesco del pizzo docente di sociologia e dottrina sociale della chiesa presso la sezione sant'ommaso d'aquino della pontificia facoltà teologica di napoli buongiorno professore bentrovato e grazie per essere con noi buongiorno e grazie a voi per l'ospitalità speriamo una terra per una comunità della pace il titolo dell'interessante pubblicazione stiamo vedendo la copertina in onda con la prefazione dell'arcivescovo di napoli don mimmo battaglia e dunque parlando di speranza e volendo anche accennare al tuo lavoro professore partiamo chiedendoci a quale speranza deve tendere l'italia l'europa il mondo in vista anche di questo appuntamento così importante del giubileo che anche poi una chiave di lettura del tuo lavoro sì sperare prima di tutto è un un dovere soprattutto in questo in questo tempo in questo tempo di crisi da eventi di guerra che soffiano ma soprattutto anche che producono morte e producono morte anche alle porte di calcio è importante che ci sia un progetto di speranza che rivalga anche a un progetto di di pace e siamo viviamo in una complessità una complessità che lascia poco spazio a volte alla speranza ma perché lascia poco spazio è necessario costruire speranza e pace a partire da un impegno forte che sia quotidiano che sia incessante e che interpelli le nostre coscienze nel nostro agire ogni ogni giorno e faccia della pace della speranza non un sentimento astrato ma un programma un programma di vita un programma delle nostre un programma politico delle nostre delle nostre attività delle nostre iniziative del nostro essere buoni cristiani e onesti cittadini per usare così una famosa espressione di san giovanni bosco e in effetti si san giovanni bosco è anche un maestro da questo punto di vista nel tuo lavoro tu parli anche dei motivi della speranza di alcuni motivi di speranza per citare un virgolettato tra cui la solidarietà con l'ambiente con la natura con la casa comune che appunto come dicevamo sono presenti nel lavoro ma anche in maniera un po più ampia ovviamente nel magistero di papa francesco allora sulla scia degli insegnamenti di papa francesco tu hai citato don bosco ma anche di quello che tu hai scritto all'interno del tuo lavoro chiediamoci come è possibile trasformare anche quelli che sono i segni dei tempi è una espressione che ovviamente ci rimanda al concilio e che è davvero molto importante oggi sottolineare in vista anche di quelli che possono diventare dei segni di speranza come dicevamo sperare oggi è necessario è importante sperare nonostante 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 tutto e nonostante ciò che noi viviamo nonostante diciamo le avversità che ciascuno di noi può vivere nonostante le guerre nonostante i morti innocenti e proprio per i morti innocenti per le vittime innocenti delle guerre delle crisi climatiche delle migrazioni forzate proprio per rendere per rendere giustizia bisogna bisogna è necessario sperare ci sono dei segni di speranza questi segni di speranza che sono dentro l'agire del di ogni di ogni cristiano dentro la coscienza di ogni cristiano un cristiano non può non non sperare il magistero ce lo insegna ma le scritture prima di ogni altra cosa ce lo ce lo insegnano bisogna sperare perché sperare vuol dire vivere senza speranza non c'è vita e senza speranza smettiamo anche di sognare e smettiamo anche di costruire quei segni necessari che ci fanno intravedere un futuro che possa essere più luminoso soprattutto per i nostri per i nostri per i nostri figli la chiesa le le comunità cristiane sono foriere di speranza sono fari di speranza laddove si piange laddove c'è povertà laddove c'è angoscia c'è disperazione il cristiano il cristianesimo le comunità cristiane e dei credenti diventano la possibilità di poter costruire ancora luoghi non solo di speranza ma soprattutto di progettazione e luoghi dove possibile ridare dignità quella dignità perduta ai nostri fratelli alle nostre alle nostre sorelle dal sogno al segno questa è spesso l'espressione che don mimmo battaglia l'arcivescovo di napoli che ringrazio per aver contribuito a questo volume con la sua prefazione è l'espressione che spesso lui utilizza le comunità cristiane sono dei segni che trasformano le nostre coscienze in possibilità di riscatto e in percorsi possibili di speranza e anche di dignità soprattutto di dignità ed è fondamentale allora anche in base a quello che tu ci hai detto che è necessario cambiare paradigma per certi versi anche una visione diversa di quella che deve essere la lettura di quelli che abbiamo definito essere segni dei tempi che possono diventare dei segni di speranza c'è bisogno professore di una rivoluzione della speranza mi ha molto colpito questo passaggio che in qualche maniera poi rimanda e porta vuole portare anche a compimento quel tema tanto caro a papa francesco dell'ecologia integrale ritorniamo un po indietro nel magistero del papa la laudato sia nove anni fa più o meno quando il papa in quella lettera parlava di questo passaggio epocale che deve esserci l'ecologia integrale un tutt'uno integrato ecco come possiamo allora declinare la speranza nel segno dell'ecologia integrale diciamo che l'ecologia integrale si nutre di speranza perché ha a che fare col con lo sviluppo con la promozione integrale dell'uomo delle della della persona e delle sue relazioni fondamentali quelle relazioni che sono alla base della speranza dell'agire di ogni di ogni uomo di ogni e di ogni donna quelle relazioni fondamentali che sono le relazioni con con dio fondamentalmente dalla quale poi discende ogni altra relazione la relazione con se stessi la relazione con la società la relazione con il il creato i segni dei tempi oggi sono segni complessi e noi dobbiamo abitare la complessità di questi di questi segni di e del mondo eh che come dicevamo all'inizio è eh sono segni di guerra eh sono segni di conflitti sono segni di di povertà e sono segni anche di di divisione di grande divisione all'interno delle comunità di divisioni nazionali di divisioni internazionali stiamo più che eh in un eh mondo che cambia semplicemente siamo in un cambiamento d'epoca ci ricorda Papa Francesco e allora proprio in questo cambiamento noi dobbiamo agire come come cristiani ricordandoci che la nostra è una missione la nostra è una missione di pace e per costruire la pace dobbiamo essere donne e uomini di pace non solamente ecco sperarla ma concretizzarla con i nostri stili di vita per chiudere allora professore ehm abbiamo citato il giubileo e dunque eh questo eh può diventare questo anno di grazia Kairos per utilizzare eh un termine come dire più che azzeccato direi da questo punto di vista il giubileo ci deve insegnare a sperare ma ci deve ricordare anche direi che eh la speranza in qualche maniera possiamo e dobbiamo costruirla noi con le nostre mani con le nostre azioni con il nostro quotidiano sì noi siamo il Papa utilizza spesso l'espressione dell'artigiano cioè la figura dell'artigiano dobbiamo essere artigiani di pace e in questo caso dobbiamo essere artigiani di speranza eh la speranza non è cosa diversa dalla costruzione della della pace ma la speranza è anche un progetto e laddove c'è un progetto c'è bisogno che si metta su un cantiere per riprendere anche l'immagine sinodale che i vescovi nel durante il cammino sinodale tutti quanti abbiamo utilizzato quella l'immagine dei cantieri e allora noi dobbiamo costruire un cantiere di pace e di speranza allo stesso modo tenendo conto di una indicazione forte e chiara che viene anche dal magistero sociale costruire la pace nell'ottica della speranza vuol dire rendere il nostro mondo più giusto rendere il nostro mondo meno diseguale dare a tutti la possibilità di essere pienamente uomini e pienamente donne nella propria dignità di persona e questo significa anche riflettere sulla condizione della politica oggi nelle nostre società nella anche in italia dove alcuni progetti politici sembrerebbero minare l'unità la coesione eh nazionale e dove sembrerebbe ecco apparire all'orizzonte la possibilità di una divaricazione sociale ancora più forte ancora più in questo caso la speranza è un dovere che tutti insieme dobbiamo costruire progettare e costruire insieme allora ricordiamo speriamo una terra per una comunità della pace edito da nerbini con la prefazione dell'arcivescovo di napoli don mimmo battaglia abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'autore il professor francesco del pizzo docente di sociologia e dottrina sociale della chiesa presso la pontificia facoltà teologica di napoli grazie professore grazie di cuore per essere stato con noi grazie per l'ospitalità grazie per l'ospitalità grazie buona giornata a tutti buona giornata anche a te professore andiamo in pubblicità e poi ancora insieme grazie per l'ospitalità grazie a tutti